La parola al Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli. Grazie, grazie Signor Ministro, grazie ai colleghi così numerosi, ai rappresentanti dell'informazione, ma soprattutto grazie al Signor Ministro che ha non solo sollecitato ma ha creduto in questa nostra iniziativa. Io sarò molto breve perché abbiamo un appuntamento in piazza, peraltro con quattro testimonial di eccezione, perché in questo momento la Capitale vive di una congiuntura favorevolissima sotto il profilo delle quote rosa. Abbiamo il primo sindaco donna, il primo prefetto donna, la Presidente della Camera, la Ministra Boschi, quindi chi meglio di loro può essere cornice e non solo cornice ma per sottolineare l'importanza di questa iniziativa. Quindi, come dicevo, grazie alle sollecitazioni del Signor Ministro ma anche grazie alla sua attenzione, oggi proponiamo questo progetto che è una felice riedizione di un'iniziativa che qualche anno fa, l'allora questore dell'Aquila, oggi direttore centrale della Polizia dell'anticrimine, fece all'Aquila. Un modo per esserci e per essere vicino alle problematiche di un tipo di reato che, prima ancora di essere un reato, è una questione di carattere culturale e sociale. questa iniziativa che inizia oggi da Roma ma riguarderà altre 13 città che abbiamo scelto non solo per l'incidenza del fenomeno ma anche per la loro distribuzione su tutto il territorio nazionale, si comporrà di due fasi. Una prima fase nella quale avvicineremo le potenziali vittime cercando in qualche modo di andare incontro all'esigenza anche di emersione di un fenomeno che, come dicevo prima, prima ancora di essere criminale e culturale. Ovviamente in questi nostri camper ci saranno degli specialisti, degli psicologi, ci saranno anche degli specialisti della Polizia Giudiziaria, delle squadre mobili, dei nostri uffici del controllo del territorio, ma ci saranno rappresentanti di quella parte della società che si è fatta carico attraverso un circuito di relazioni di sostenere le vittime in questi momenti particolarmente complicati perché questo è un tipo di reato estremamente insidioso nel quale il tema della secondaria vittimizzazione molto spesso impedisce di emergere, di portare il disagio e la sofferenza di queste persone agli organi di Polizia. E quindi in un'ottica di una Polizia che non è solo sensibile ai temi della repressione ma è fortemente sensibile ai temi della prevenzione, noi ci facciamo carico di questo passo verso le vittime. I dati sono confortanti, quelli statistici, nel senso che questo tipo di reato, raffrontando i dati del 2015, del 2016, del 2014, sono confortanti, ma ovviamente questo non ci basta e soprattutto lo sforzo è quello di andare a recuperare quel sommerso che molto spesso noi non coliamo nel dato statistico. I 14 territori sono Sondrio, Brescia, Bologna, Arezzo, Macerata, Roma, L'Aquila, Pescara, Matera, Campobasso, Cosenza, Palermo, Siracusa e Sassari e ovviamente all'esito di questa prima fase di sperimentazione che riguarderà i tre mesi estivi per due sabati a mese, noi tireremo un po' le somme. Ci sarà una sorta di verifica dei dati raccolti e la nostra intenzione è quella di strutturare in maniera più continuativa questa presenza sul territorio, è quella anche di rendere i nostri uffici più accoglienti rispetto all'esigenza delle vittime e quindi creeremo poi all'interno delle nostre squadre mobili dei luoghi nei quali sarà possibile accogliere, sarà possibile ascoltare e fornire un contributo che non è solo di Polizia Giudiziaria ma anche e soprattutto psicologico e in questo voglio rimancare ancora una volta l'importanza del nostro settore sanitario che è un partner importantissimo di questa iniziativa e anche perché vedete su questo particolare settore noi non abbiamo medici nella Polizia, noi abbiamo medici della Polizia che sono a tutto tondo partecipi del nostro progetto, della nostra mission e quindi in qualche modo caratterizzano ogni nostra iniziativa. Questo è l'altra cosa che mi piace sottolineare e che verrà distribuito del materiale, del materiale multilingue perché ovviamente il tema non riguarda soltanto le persone che conoscono la nostra lingua, la nostra è una società sempre più multietnica e quindi ci rivolgiamo anche a quegli ambiti sociali che molto spesso anche per limiti culturali sono a volte più soggetti a questo tipo di sofferenza. L'ultima annotazione statistica e poi lascio la parola al signor Ministro è il fatto che sì è vero che i dati sono in progressivo calo ma è altrettanto indicativa la circostanza che nell'ambito sia degli omicidi volontari, sia nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia, sia nell'ambito degli atti persecutori, la percentuale delle vittime in quanto donne è invece un dato ancora particolarmente significativo e particolarmente negativo. Questa campagna ha lo scopo anche in un contesto seppur assicurante di dati statistici in calo di andare sempre più a incidere favorevolmente sul numero delle vittime e quindi sul numero delle vittime in quanto donne, in quanto molto spesso nell'ambito anche e soprattutto delle dinamiche domestiche di soggetti deboli. Grazie signor Ministro. Prende la parola il Ministro dell'Interno, onorevole Angelino Alfano. Buongiorno, sarò molto breve anch'io e grazie per aver partecipato a questa mattinata che per noi ha una grande importanza. Noi, e lo ha detto molto bene il capo della Polizia, siamo soddisfatti del decremento, siamo soddisfatti della diminuzione di tutti i reati che hanno come vittime le donne, ma, e lo dico a stampatello, non ci accontentiamo. Quindi siamo qui per dire che tutto quello che abbiamo fatto fin qui è positivo ma non ci basta. E siamo qui per ricordare una parola inglese e due parole italiane, e per fare presente che le due parole italiane rendono meglio l'idea rispetto alla parola inglese. La parola inglese è stalking, io da Ministro della Giustizia fui l'autore del decreto. Le parole italiane sono due, atti persecutori. Si tratta di una persecuzione, si tratta di atti che realizzano una vera e propria persecuzione, ed è il motivo per il quale noi stiamo andando avanti e abbiamo fatto il decreto sul contrasto alla violenza di genere ottenendo degli altri risultati. Ci eravamo accorti che gli atti persecutori spesso erano il reato presupposto di reati più gravi e abbiamo fatto le nuove norme. Adesso, a cosa serve questo bellissimo lavoro che con la polizia stiamo lanciando? Ad andare oltre rispetto a tutto quello che abbiamo fatto. Noi possiamo aumentare le pene, possiamo introdurre, come abbiamo fatto anche con successo, delle nuove forme di contrasto. Pensate agli ammonimenti del questore, oppure pensate all'allontanamento del partner violento da casa. Basta una telefonata. Tutto questo sta dando dei risultati. Cos'è che noi vogliamo in più? Ancora più fiducia nei nostri confronti, nei confronti di uno Stato e delle forze dell'ordine che se ricevono una telefonata possono fare tre cose. Prevenire, proteggere e punire. Prevenire, lo diceva benissimo, lo raccontava benissimo il bellissimo video, se una donna denuncia o se qualcuno denuncia al suo posto se lei non ha il coraggio di denunciare o non ha maturato ancora la forza per denunciare, quella donna può salvarsi e si previene. Ecco il lavoro che noi dobbiamo fare tutti insieme. Poi, proteggere. Noi dobbiamo proteggere chi denuncia e lo facciamo. Siamo in squadra con la magistratura. Le forze dell'ordine e la magistratura fanno squadra per proteggere chi ha avuto il coraggio di denunciare e poi punire il persecutore, che è potenzialmente un assassino. Noi abbiamo queste slide che dimostrano con percentuali i nostri miglioramenti. Nel primo semestre di quest'anno rispetto all'anno scorso meno 22,9% in termini di omicidi commessi ai danni delle donne oppure per le violenze sessuali meno 23,3% o ancora meno 22,8% vedete che la percentuale si somiglia a maltrattamenti contro i familiari. Ma queste sono percentuali, hanno la freddezza dell'algebra, hanno la freddezza dei numeri. Dietro queste cifre c'è per ciascun evento una donna che è rimasta sfreggiata e quando non è rimasta sfreggiata nel corpo è rimasta sfreggiata nell'anima vittima di un trauma magari dal quale non si riavrà facilmente. Il nostro lavoro è scendere in campo, stare in strada per dire fidatevi, se venite da noi noi preveniamo il reato, lavoriamo prima che il reato accada e poi ti proteggiamo a te che hai denunciato e a lui quello che voleva fare qualcosa o che ha fatto qualcosa lo puniamo. Tutto questo fa parte di un patrimonio immateriale di un paese che si chiama fiducia. Io posso toccare un'opera pubblica, posso toccare un qualcosa che si realizza, non posso toccare la fiducia. Ecco perché dobbiamo lavorare sapendo che non la potremo mai toccare con mano ma se le denunce aumenteranno vuol dire che avremo costruito quella base di fiducia che fa dire a chi sente delle grida vicino casa, a chi sente magari continuamente una donna che piange nell'appartamento accanto, in quello di sotto, in quello di sopra, fa dire io prendo fiducia e denuncio, denuncio e salvo quella donna, lei magari non mi autorizzerebbe a denunciare perché lei ha ancora paura, prenderà coraggio anche lei dopo la mia denuncia, io sono un vicino di casa e denuncio. L'importante è che nessuno volga le spalle e chiuda le orecchie e gli occhi di fronte a quello che sente o a quello che vede. Il messaggio nostro è andiamo incontro piuttosto che aspettare in ufficio la telefonata e questo credo che sia un messaggio bello e penso che la capacità virale, positiva di questo messaggio, potrà dare veramente buoni frutti e i nostri buoni frutti saranno rappresentati da donne più sicure in un paese più sicuro. Vi ringrazio.